Sono di origine romana ma stanziali su Vasto da diversi mesi perché collocati presso una comunità in regime uno di arresti domiciliari ed un altro in regime di misure di sicurezza e di libertà vigilata. Uno di due tra l'altro è stato arrestato due notti fa da un equipaggio della Regione Mobile di Vasto perché all'una di notte era uscito dalla comunità senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria che aveva disposto il provvedimento per cui è stato arrestato insieme ad altri due correi per il relato di evasione. E quell'elemento poi ci ha suffragato le nostre ipotesi investigative iniziali sulla ricostruzione del percorso e sull'individuare quella comunità come luogo di partenza per l'effettuazione della rapina. Il bottino è di quasi 2.000 euro composto tra denaro contante e buoni pasto che non sono stati ritrovati molto probabilmente se ne saranno disfatti temendo la tracciabilità degli stessi. Fondamentale per rintracciare la videoserviglianza? La videoserviglianza è sempre un elemento che può fare la differenza sia di quella pubblica che di quella privata. Ovviamente è un ausilio in più alle investigazioni che vanno però incastrate con altri elementi di altra natura, dalle sommarie informazioni ad attività di perquisizione ad attività di ricognizione.